Sì, grazie Presidente per la parola. Innanzitutto c'è da fare una premessa. Roma Capitale insieme ad AMA ha istituito un servizio di raccolta differenziato, raccolta per utenze non domestiche, passando da 20.000 a 85.000 utenze non domestiche. Un traguardo, quello che è stato effettuato, presentando un bando abbastanza cospicuo, con una somma importante che supera i 100 minuti di euro a 16 lotti, proprio per garantire un servizio sulle utenze non domestiche. Questa commissione insieme alla commissione commercio ha seguito sin dall'inizio l'attività, in modo puntuale l'andamento e anche le eventuali osservazioni e criticità legate al servizio delle utenze non domestiche, con svariate commissioni congiunte. In una commissione abbiamo individuato una mancanza di comunicazione tra gli esercenti e tra i prestatori, perciò tra gli appaltatori, che in qualche modo non permette una comunicazione efficiente ed efficace allo svolgimento del servizio. Questa mozione mira semplicemente a istituire un numero verde e un'applicazione per poter permettere una comunicazione più diretta, più immediata, tra l'esercente e l'appaltatore. In qualche modo creando un coordinamento comunicativo tra l'azienda AMSPA che chiaramente ha avviato questo tipo di servizio e che coordina l'attività di ritiro insieme alle società appaltatrici per le utenze non domestiche. Noi chiediamo semplicemente di incentivare e di potenziare questo tipo di servizi che riguarda questa interlocuzione che va a beneficio dell'attività del ritiro ma soprattutto anche l'evitare il salto dei passaggi o comunque efficientare insomma un servizio che Roma Capitale in questo momento sta seguendo molto attentamente ed è per questo motivo che la Commissione Ambiente insieme alla Commissione Commercio ha richiesto un'ulteriore commissione congiunta proprio per cercare di verificare da vicino all'interno della sede di AMSPA proprio come funziona questo servizio di numero verde e questo servizio tramite questa applicazione. Perciò è un indirizzo molto chiaro, molto semplice, speriamo insomma che AMA ci ascolti, sono pienamente sicuro e perciò insomma invito tutti quanti, tutte le forze politiche a votare all'unanimità. Grazie Presidente.